Per evitare di pagare il debito di quasi 590.000 euro maturato con l'erario dalla sua società immobiliare ha ceduto l'unico bene su cui lo Stato avrebbe potuto mettere le mani, un capannone situato a Prato del valore di 600.000 euro. Una cessione sospetta per i tempi e per le modalità con cui è stata perfezionata, tanto da far destare sospetti che si sono tradotti in un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il provvedimento, che riguarda l'immobile e conti correnti, è stato notificato dalla Guardia di Finanza all'amministratore della società immobiliare, un cittadino cinese, e a una sua ex dipendente, anche lei cinese, a capo di una società con sede a Pistoia, rimasta inattiva fino a quando non è divenuta proprietaria del capannone. Il trucco per non pagare le tasse, già iscritte a ruolo, non è dunque riuscito. I finanzieri hanno scoperto che la vendita era avvenuta senza passaggio di denaro, ma solo tramite l'accollo da parte della nuova proprietà, del mutuo, le cui rate venivano pagate con i soldi che la precedente proprietà faceva arrivare regolarmente sul conto corrente. Altro sospetto, che poi ha trovato fondamento circa l'ipotesi di una vendita simulata per non pagare il debito derivato da tasse non versate, la decisione di mettere in liquidazione la società immobiliare spogliandola di tutto. L'immobiliarista e la sua ex dipendente sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il capannone e i conti correnti sono stati bloccati per consentire, quando l'inchiesta sarà conclusa, di dare solvibilità al debito.